ciao benvenuto oggi prepareremo un san pellegrino americano gli ingredienti per questo cocktail sono 4 centilitri di aperitivo bitter 4 centilitri di vermut rosso 4 centilitri di chinò san pellegrino il frutto del chinò accusato dalle bibite san pellegrino proviene dalla sicilia di una piantagione storica collocata alle pendici dell'erna quando prepari un cocktail come l'americano spritz ricordati di utilizzare sempre tanto ghiaccio quando lo servi questo preserverà il gusto del tuo cocktail e aiuterà a renderlo più a lungo fresco e gustoso una scorza di limone e una fetta d'arancia un cocktail della tradizione italiana rivisitato utilizzando l'inimitabile gusto di chinò san pellegrino che andrà ad esaltare le note amare e speziate di questo drink